Dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo fuoradiuviato con lo spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi forzava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi. Amici ascoltatori, Radio Italia dell'Iri trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, sonde corte, frequenza 5.925 kHz, via 49 metri. Inoltre per chi vuole ascoltarci in Iran trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99.5 MHz. E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social. Twitter, chiocciola, Radio Italia dell'Iri, siamo presenti anche su WK, con questo ingresso, redazione, trattino, italiana dell'Iri, e sempre su Instagram, parstodayitalian, e infine anche siamo su Telegram, chiocciola, notizie, trattino, scelte. E-mail di Radio Italia, Radio Italia Iri, chiocciola. E-mail di Radio Italia, radio televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale, 19.395 barra 6-7-6-7 Tehran, Iran.